eccoci qua benvenuti benvenuti a tutti benvenuti a questo webinar del venerdì pomeriggio ciao a tutti ciao benvenuti tre e mezza diciamo che possiamo partire un un caldo pomeriggio ormai di estate partita la grande ciao a tutti come state tutto bene avete preso un caffettino allora diciamo che siamo ci siamo già ci siamo già un po tutti vediamo un attimo ok ciao ciao luca ciao carin ciao alessandro andrea eccoli qua allora 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 partiamo subito andiamo subito a bomba con il nostro webinar di oggi soltanto una piccola due parole su un etesis per chi non ci conosce perché qua che già non so parte ci conosce bene ma giusto un piccolo preambolo un etesis è un produttore italiano di soluzioni proprio per il business 100 per cento italiani siamo a pesaro nelle marche che cosa facciamo facciamo una suite di soluzioni tramite che diciamo tramite i nostri partner sparsi in tutta in tutta italia una soluzione sono firewall aziendale cento new voip collaboration suite hotspot queste soluzioni basate su una piattaforma che adesso sempre si è rinnovata negli ultimi anni che si si è rinnovata nel server otto nel server che appunto una piattaforma di per ospitare applicazioni molto nodo per l'albert cloud eccetera eccetera oggi è una partiamo in maniera particolare perché parliamo di un argomento molto molto interessante che vedremo insieme alcuni ospiti vi ricordo solo una cosa una tista tecnica se volete la registrazione della del webinar di oggi e anche essere avvisato dei prossimi i prossimi webinar di netesis con i nostri ospiti andate sul nostro canale telegram e scrivetevi così avete tutte le nostre notizie e quando non appena uscirà la registrazione molto probabilmente venerdì mattina webinar di oggi super super interessante oggi parleremo parleremo di applicazioni per nel server otto parliamo di container lo voi sapete che la nostra piattaforma la suite nel server otto è appunto un'applicazione una piattaforma che permette di installare applicazioni sotto forma di container con la possibilità di spostarli da uno all'altro con la possibilità di installarli di avere tutto il loro stack tecnologico per poter funzionare oggi presenteremo un caso di successo cioè di una azienda diversa da netesis che ha sviluppato un'integrazione una nuova app per nel server otto per integrare installare in maniera molto molto veloce e anche con alcune funzionalità integrate odoo che è appunto un irp all'interno della nostra della nostra della nostra piattaforma quindi due motivi per stare attenti oggi vedere quali sono i vantaggi per poter metto un'applicazione su nel server otto e anche come hanno fatto loro e due quali sono i vantaggi di avere odoo per la propria per la propria azienda lo faremo con leonardo e mario leonardo ceo di in novio ciao leonardo spero che ci sei dove sei ecco lì ecco lì ecco lì ecco lì perfetto perfetto allora tra l'altro in novio anche partner netesis per cui in doppio ruolo qui oggi di partner netesis e anche di appunto sviluppatore su piattaforma odoo e anche integratore della piattaforma odoo su nel server otto più leonardo puoi tranquillamente condividere il tuo schermo io te lo stacco puoi fare quello quello che vuoi ok allora ti do scusate sì perfetto metti la prima slide ok allora io ti ho fatto tutta la presentazione ufficiale per cui vai pure tu vai pure benissimo grazie alessio buon pomeriggio a tutti io sono leonardo paschino sono amministratore di fondatore amministratore di novio che è una software house che è presente da oltre dieci anni sul mercato che ha una base diciamo tecnologica e organizzativa solida diciamo per servire i business maturi nella digitalizzazione nella digitalizzazione quindi su tutto il ramo il pcrm è quello che interessa oggi e poi anche un anima innovativa in realtà anche questo c'entra nel discorso di oggi un anima innovativa che fa sperimentazione tecnologica e supporta tutto il mondo delle start up in quello che è nel lancio di nuovi business quindi la creazione degli mvp per il lancio di nuovi business legati al digitale cos'è che è importante oggi che vi portate a casa di novio e partner net esista 2016 in particolare utilizziamo net server su tutti i nostri clienti e dall'altro lato è sviluppatore odoo da quando non si chiamava ancora odoo si chiama open erp e quindi ha una storia di open source dietro perché il team diciamo vanta 15 anni di contributi anche alla community al software open source dietro rapidamente per chi non ha mai sentito parlare di odoo poi ma chiaramente mario che è una analista funzionale del nostro team che parlerà poco di me vi vi racconterà un po meglio quindi io vi dico semplicemente odoo è una suite integrata di applicazioni aziendali per la gestione dei processi di business di tutti i processi di business è un'applicazione web chiaramente che gira nella internet aziendale come dicevamo è un software è diciamo il software gestionale open source più diffuso al mondo più installato al mondo è una crescita esponenziale è un'adozione crescente soprattutto negli ultimi anni sta crescendo molto sia la community sia l'adozione dei clienti è modulare scalabile e poi ha come dicevamo una base open source e sopra dei servizi professionali quindi trovandoci a cavallo diciamo fra net server e odoo ci siamo detti conoscevamo diciamo il meglio dei entrambi i mondi abbiamo detto questo è il momento di trovare a semplificare l'adozione di odoo e questo è l'obiettivo dell'integrazione di quello di quello di cui parliamo oggi nel senso trovare un modo per semplificare siamo partiti con in testa le pm italiane poi abbiamo visto che anche la community ha risposto bene anche con persone che chiedevano installare il pacchetto fuori dall'italia però come vedremo poi come mario vi racconterà meglio sono dei vantaggi particolari per la localizzazione italiana quindi obiettivo semplificare l'adozione quindi semplificare per i partner possibilità di installare i clienti odoo e anche per i clienti finali che eventualmente sono in grado di mettere le mani direttamente su net server la possibilità di installare attraverso un pacchetto quindi che cosa abbiamo fatto e che cosa vi raccontiamo che si può fare che poi è interessante anche come caso d'uso chiaramente per come posto nel webinar di creazione di un pacchetto dentro dentro net server abbiamo creato un pacchetto quello che viene definito un pacchetto certificato da net server quindi stiamo nel centro per viola e scusate che così vedete anche il puntatore del mouse e niente quindi abbiamo abbiamo fatto tutti i passaggi tecnici per creare questo l'abbiamo fatto con in mente tutta una serie di vantaggi adesso io vi racconterò quelli che dal nostro punto di vista sono i vantaggi di aver portato il pacchetto odoo dentro dentro net server innanzitutto chiaramente la possibilità di installarlo con un click non siamo dentro il marketplace di net server e quindi nessun bisogno di essere un sysadmine esperto che nessun bisogno di scaricare i sorgenti di odoo di fare una selezione dei moduli nella procedura di installazione automatizzata e dentro se ci sono già alcune integrazioni quindi le utenze sono già integrati con quelle net server attraverso le dap e chiaramente rispetto a provare odoo che non so attraverso magari il sito di casa madre o diciamo attraverso provider terzi chiaramente c'è il vantaggio di poterlo installare con semplicità sul proprio dps su qualsiasi cloud cloud provider o virtualizzatore quindi primo vantaggio l'installazione secondo vantaggio chiaramente che secondo noi ovviamente dal nostro punto di vista è uno dei principali è la gestione abbiamo deciso di fare questa integrazione proprio nel momento in cui è uscito net server 8 ed è diventata net server diventata un'application hosting platform a tutti gli effetti basata su container di nodo quindi in ambienti sia di produzione che di sviluppo chiaramente noi abbiamo tendenzialmente diversi ambienti di sviluppo diversi ambienti di staging è un ambiente di produzione poter spostare questi ambienti fra diversi nodi replicarli è qualcosa di molto molto interessante chiaramente un percorso che stiamo iniziando adesso con l'avvio dell'applicazione però questo infine normalmente quindi l'amministrazione centralizzata di più nodi soprattutto anche con installazioni on premise e ible cloud quindi cloud on premise quindi che cosa si può fare tendenzialmente clonare una su un altro nodo muovere l'app da un nodo all'altro dopodiché c'è dentro il meccanismo dell'aggiornamento dei pacchetti anche questo molto utile molto utile per l'aggiornamento di odoo e soprattutto backup restore secondo gli standard net server integrato con tutti diciamo con quello che è già un meccanismo di backup presente su tutte le applicazioni net server quindi diversi vantaggi di gestione ulteriore vantaggio quello dell'autonomia chiaramente come dicevamo prima tendono a installare sul server di cui abbiamo il controllo abbiamo controllo totale sui dati sulla posizione dei dati non dipendiamo da provider sass esterni è un vantaggio chiaramente che si porta dentro due e che c'è questo porta identità di valore diciamo che con quello che è netesis tra il mio e netesis è l'open source quindi avere un open source però per il business chiaramente quindi un open source che dietro a un supporto professionale qualificato altra cosa altro vantaggio fondamentale che vi troverete già dentro queste questa applicazione è chiaramente quello che dicevamo prima un'esperienza della selezione dei moduli che arriva appunto l'esperienza nel corso di anni quindi selezione dei moduli vi troverete già delle troverete già delle guide delle mini guide come stavate l'applicazione alla prima configurazione del sistema e dopodiché localizzazione italiana ci intera in tutta la selezione dei moduli che servono per una corretta localizzazione italiana ci entrerà magari un po meglio della data quinto e ultimo vantaggio ma non chiaramente per importanza avere la possibilità come dicevamo prima di un supporto professionale quindi noi ci siamo abbiamo fatto l'integrazione potete rivolgervi a noi che passando per netesis siamo a disposizione con i diei cosa facciamo analisi dei processi a tenda chiaramente supporto nella nella nell'analisi iniziale per l'attivazione tutta quella che è l'attivazione del progetto la configurazione del diodule la migrazione dei dati eventualmente da vecchi gestionali esistenti sviluppo personalizzato quindi ovviamente essendo open source il software si presta molto alla verticalizzazione e all'espansione dei moduli poiché chiaramente formazione e consulenza su tutto quello che riguarda l'adozione dell'IAP in azienda io diciamo sulla mia parte avrei anche completato diciamo che è la parte che fa da cappello un pochino a quello che adesso andrà a dirvi Mario che il perché ha senso adottare Odoo e quindi entreremo un pochino più nel dettaglio di quelle che sono le funzionalità e le cose e le cose che possono essere di interesse sia per i partner che per i clienti finali non so se Mario sei già disponibile che puoi entrare tu. Sì io sono già provo a condividere lo schermo Ok quindi bene buongiorno a tutti buon pomeriggio sono come già detto Mario Riva mi occupo di analisi funzionale e lavoro sul mondo Odoo da parecchi anni ormai da 15 anni quando ancora non si chiamava Odoo ma si chiamava OpenRP quindi era un altro software è un software che negli anni è cresciuto molto e diciamo già fin dall'inizio una delle domande e anche la domanda qui vogliamo rispondere oggi è perché appunto aver scelto questo software perché Odoo partendo da quella che è un po' analisi di mercato abbiamo visto che le PMI italiane in generale hanno o avevano una grossa frammentazione a livello di software utilizzati in media i software utilizzati sono circa 14 software quindi che vanno a coprire le varie aree applicative ovviamente alcuni di questi software sono molto socialistici quindi sono di difficile sostituzione ma una grossa parte dei software utilizzati in realtà potrebbero essere sostituiti tranquillamente da un software che va a coprire le varie aree aziendali l'avere una frammentazione di questo tipo sui vari software è sicuramente crea complessità crea difficoltà di utilizzo e crea efficienza quindi da un lato diciamo andiamo a identificare quelli che sono un po' i problemi e quelli che abbiamo visto come soluzione o come dove diciamo in Odoo potevano essere risolti quindi punto che già citavo prima un puzzle di software specializzati quindi molto verticali che però tendenzialmente non dialogano tra di loro software per cui è necessario da parte dell'utente imparare ogni volta procedure diverse interfacce diverse quindi questo crea sicuramente molta difficoltà anche nel momento in cui si va non so a coprire un'area aziendale è necessario impararsi un nuovo software parlare con un nuovo fornitore e avere diciamo uno scalino di ingresso un po' alto la differenza nell'utilizzo di un software all in one è quella di avere una uniformità delle interfacce e avere diciamo anche appunto uno scalino di ingresso più facile anche per gli utilizzatori e quindi diciamo coprire un po' vai passare quelle difficoltà che si ha appunto dal puzzle di software i software presenti sul mercato tendenzialmente sono chiusi cioè non comunicano con altri software tendono a gestire magari in modo estremamente specialistico e molto bene le aree su cui sono verticalizzati ma poi non sempre o comunque con un po' di difficoltà vanno a dialogare con software esterni non è il caso di Odoo in quanto dialoga tramite API e l'integrazione con software esterni e applicativi esterni che diciamo non possono essere gestiti comunque all'interno di Odoo sono all'ordine del giorno i software un po' utilizzati in modo generale rischiano di avere informazioni poco reperibili poco centralizzate soprattutto perché se sono software diversi diventa difficile la comunicazione tra le varie aziendali vi faccio un esempio se ho un software per le vendite e uno per la fatturazione oppure un altro per il magazzino dove software a volte nel PMI parliamo anche di foglio di calcolo quindi cosa succede? che qualcuno fa le vendite, fa un'offerta, fa una conferma d'ordine su un software poi ricopia i dati sull'altro software per movimentare il magazzino e ricopia i dati sul successivo per la fatturazione ovviamente questa situazione sta un po' cambiando in generale anche perché le aziende capiscono l'importanza di non perdere tempo e di non commettere errori in queste operazioni tutto questo viene risolto grazie Odoo perché le varie aree, le varie app è un software modulare dove io posso installare nel tempo o tutte le app o varie app in base alle mie esigenze e sono tutte comunicanti tra di loro quindi nel momento in cui io vado per esempio a confermare un ordine di vendita se sto vendendo un prodotto fisico questo andrà a fare un impegno sul magazzino se sto vendendo un servizio potrebbe ad esempio crearmi un progetto che va poi a coinvolgere delle risorse con rendicontazione di fogliore e così via visibilità e condivisione limitata delle informazioni rispetto a una reportistica in tempo reale in Odoo abbiamo grazie proprio al fatto che tutte le informazioni sono centralizzate abbiamo una vasta area di reportistica una per ogni app che ci dà una visione sempre puntuale di quello che sta succedendo sui vari ambiti aziendali quindi sulle varie aree applicative di fatto quindi no ripetendo sul CRM, sulle vendite, sul magazzino, sull'e-commerce, sulle varie app che gestisce in alcuni casi, in alcune realtà abbiamo ancora l'utilizzo di software che sono di fatto installati su una macchina in locale cosa ovviamente molto obsoleta ma che troviamo ancora mentre Odoo come anticipava Leonardo è un software installato su server a cui è possibile accedere tramite web quindi tramite qualunque browser o tramite mobile quindi assoluta accessibilità Qual è l'ecosistema Odoo? Odoo è nato molti anni fa in Belgio è stato rilasciato quasi subito su base open source e questa è stata ovviamente la chiave e la molla che ha fatto crescere Odoo in modo esponenziale in questi anni è un software molto utilizzato quindi abbiamo dei numeri molto importanti già a livello di utenti che stanno crescendo in modo ancora più veloce proprio negli ultimi anni e anche e soprattutto in Italia quindi in questo momento in Italia non era ancora così conosciuto ma si sta negli ultimi 3-4 anni si sta muovendo molto il nome Odoo si sta facendo molto sentire quindi l'ecosistema è costituito da una casa madre che rilascia ogni anno una nuova versione con migliorie sia tecniche sia funzionali sia di copertura funzionale una community molto grande a livello internazionale che si occupa di gestire e diciamo dare delle regole su quelli che sono gli sviluppi dei partner degli appassionati, delle aziende che contribuiscono dei libri professionisti e così via una community che comprende sia sviluppatori sia esperti dei vari ambiti applicativi quindi l'analista dalla parte di magazzino piuttosto che la parte di contabilità e così via quindi casa madre rilascia ogni anno una nuova versione la community integra le funzionalità di Odoo Core con altre funzionalità che poi all'anno successivo la casa madre eventualmente integra nel Core quindi questo ha permesso veramente una crescita esponenziale e poi abbiamo i partner, i partner ufficiali come il NoView che oltre diciamo a quello che può essere tutto l'ecosistema, anche community può fornire dei servizi professionali di implementazione, supporto, consulenza come già in parte ha detto Leonardo vi dicevo Odoo è un software modulare quello che vi troverete lo vedremo poi forse in una successiva slide è l'introduzione a quelle che è le prime videate di Odoo e poi si può decidere di installare le varie app passo passo tutto insieme in base alle varie necessità il fatto di essere modulare semplifica rispetto a software un po' monolitici il fatto di avere delle videate sempre molto chiare molto semplici per cui se io non voglio gestire il magazzino non avrò dei campi nell'ambito vendite che fanno riferimento ad esempio al magazzino quindi si vanno a installare solo le app effettivamente necessarie e questo semplifica molto anche l'utilizzo e la crescita insomma passo passo di questo software quindi ad esempio realtà che attivano Odoo lo fanno ad esempio per passi quindi magari partono da un'area che vogliono iniziare a colpire in azienda per migliorarla e poi poco per volta vanno a integrare le altre parti per ambiti raggruppando un po' per macro categorie diciamo abbiamo una parte di CRM una parte di vendite una parte di punto vendita integrato per la parte punto vendita intendo proprio il POS quello che si vede nei negozi con l'integrazione noi abbiamo un'integrazione con la Epson per l'emissione degli scontri fiscali a norma di legge e questa è un po' l'area a parte vendite che viene integrata anche da un e-commerce anch'esso sempre di Odoo integrato che si è sviluppato molto nelle ultime versioni e una parte di configuratore sito web con il classico gestione a blocchi drag and drop quindi molto facile e veloce anche costruire un sito web dalle buone caratteristiche c'è una parte di gestione servizi quindi per realtà di servizi un project manager quindi una parte di gestione task manager una parte di gestione del risorso umano quindi con dipendenti schede dipendente rimborsi spese rendicontazione ore che fanno poi riferimento alla parte di progetti per poi gestire la parte di fatturazione gestione entrate e uscite e una parte di help desk quindi è possibile attivare un help desk che noi utilizziamo nei confronti dei clienti per le aziende o del mondo diciamo che gestiscono prodotti fisici quindi potrebbero essere aziende del retail che rientrano un po' nel punto vendita e nell'e-commerce o aziende di produzione abbiamo le app di magazzino di MRP quindi di produzione e di acquisto che però può essere anche attivata per la parte di servizi per la parte di produzione abbiamo delle integrazioni questo per riprendere il discorso delle integrazioni con software di terze parti per la gestione dell'industria 4.0 che adesso sta diventando industria 5.0 una parte di mass mailing integrata molto comoda perché tutti i nostri contatti sono all'interno dell'unico database quindi il lead che ci arriva sul CRM diventa poi un contatto che posso contattare tramite mass mailing e poi la parte di fatturazione e contabilità che è la parte su cui facciamo una rapida carrellata questo perché il software è rilasciato come dicevo su varie nazioni quindi un software internazionale e poi la parte di localizzazione in base anche un po' alla complessità della localizzazione la nostra ha qualche difficoltà in più rispetto magari a localizzazione svizzera viene demandata alle community quindi la community si occupa della localizzazione in termini di gestione dei moduli di fatturazione e contabilità in questo caso per l'Italia entrando quindi nel momento in cui andrete come mostrava prima Leonardo quindi alla prima installazione da NetServer installando il modulo fatturazione e contabilità vi troverete una dashboard una bacheca e in questa bacheca abbiamo un po' tutte le funzionalità che vanno a toccare sia la parte fatturazione intesa in modo più semplice che la parte più di contabilità di cui adesso andrò a elencare solamente un po' i punti giusto per darvi una carrellata quindi vedete che il software si presenta con un'interfaccia che è poi uguale su tutte le varie app di fatto quindi vedremo una cosa analoga sulla parte vendita sulla parte magazzino così via con filtri, raggruppi insomma facilità di navigazione in questo caso stiamo vedendo la bacheca della fatturazione e contabilità dove ci sono esempi di vari registri fattura vendita fattura acquisto registri banca gestione cestiti e così via e in altro in alto c'è sempre il menu da cui è poi possibile accedere nelle varie aree di dettaglio in questo caso potrebbero essere fatture clienti fatture fornitori liquidazione IVA e così via installando il modulo quindi quello che vi trovate già nel pacchetto per NetServer trovate una selezione di moduli della localizzazione italiana quindi lo stato dell'arte della localizzazione italiana funzionante con le fix con tutto quello che è diciamo il risultato del lavoro sia della community ma anche ovviamente del nostro lavoro perché noi siamo molto attivi sulla community e quindi diciamo queste installando quel pacchetto vi verranno installate tutte le dipendenze quindi i moduli che stanno sotto diciamo a quel pacchetto che vi permetteranno di andare a gestire i vari aspetti Odoo in generale quindi questo al di là della localizzazione italiana è un software visto che è molto orizzontale al di là delle app è anche orizzontale sulle varie nazioni è un software che tendenzialmente è configurabile quindi l'idea di Odoo Casa Madre è quella di creare un software che poi dia la possibilità di fare configurazioni questo è vero per una grossa fetta dei moduli già esistenti nel core poi ovviamente noi lato Italia abbiamo dovuto e dobbiamo sviluppare manutenere altri moduli che sono quelli che vi trovate nell'installazione che vi permettono poi di gestire e configurare appunto le varie funzionalità quindi banalmente troverete un piano conti standard che potrete però configurare in base all'esigenza dell'azienda che si va a implementare e così vale per tutti gli altri punti quindi sulle imposte sulle posizioni fiscali sui vari registri per registri intendo registro che va a mantenere tutte le varie registrazioni lato vendita lato acquisti lato contabilità generica e così via termini di pagamento sulla parte i moduli per la gestione del multivaluto ad esempio per cui abbiamo un interfacciamento con Banca d'Italia per il cambio in tempo tempo reale ovviamente c'è la gestione della fatturazione che è la base un po' di tutto quindi fatturazione attiva e passiva invio e ricezione al sistema di interscambio Odoo ha un proprio gestore diciamo per questa Odoo Core ha un proprio gestore noi lato Italia l'abbiamo sostituito certificando un canale quindi noi abbiamo facciamo noi da hub diciamo come il NuView per l'invio e ricezione delle fatture al sistema di interscambio questo perché i moduli di localizzazione si basano su questi moduli che usiamo appunto per questo invio e ricezione e si basano su quella che è la localizzazione italiana e non per questo aspetto sul Core di Odoo e poi gli altri aspetti di questo è giusto un elenco gli altri aspetti di fatturazione quindi split payment marca da pollo virtuale ritenuta da conto dichiarazione di intento gestione del one shop stop per chi vende all'estero i soggetti che sono appunto sono soggetti a questa normativa e l'inversione contabile eccetera qui ho elencato i principali funzionalità copertura funzionale in generale abbiamo altri moduli per cui gestione rate risconti bolle doganali cespiti ricevute bancarie la gestione di quelli che sono gli adempimenti periodici quindi liquidazione IVA comunicazione della liquidazione IVA con la generazione del file del tracciato da mandare appunto all'agenzia delle entrate dichiarazione intrastat con la generazione dei file da caricare sul portale dell'agenzia delle dogane e poi tutta una serie di riportistica diciamo oltre a quella che è la riportistica trasversale che trovate ovviamente su Voodoo quindi la riportistica lato CRM lato vendite lato e-commerce con i carrelli abbandonati e così via dove è possibile crearsi delle 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 tabelle PV esportabili poi tra l'altro anche su un foglio di calcolo quindi molto un sistema molto flessibile parliamo di riportistica o di stampe o di anche in questo caso qui ho scritto stampe ma in realtà molte di queste viste sono stampe che possono essere esportate sia in pdf che in quindi viste direttamente sul software in alcuni casi sono dinamiche quindi cliccando su uno di questi elementi in blu vado a vedere poi il dettaglio di cosa c'è dentro quel totale altre appunto stessa vista può essere esportata in pdf oppure può essere esportata scusate in excel quindi parlando diciamo sulla parte più prettamente di localizzazione di contabilità quindi le classiche stampe bilancio sezioni contrapposte bilancio riclassificato in quale direttiva c'è registriva libro giornale eccetera insomma un po' di queste tipologie di stampe io ho concluso grazie per per l'attenzione e lascio la parola ad Alessio eccoci qua eccoci qua allora vediamo subito un attimo e allora facciamo così aggiungo sono anche io diciamo anche anche Leonardo eccoci qua allora domande 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 chiedete pure Enrico ti faccio subito una domanda da parte di Enrico che dice di che versione di io stai parlando sto parlando della versione 16 che è quella attualmente più completa per la parte di localizzazione italiana perfetto fate tutte le domande che volete qua nella chat a destra scrivete pure se avete dubbi senza anche di qualsiasi tipo se volete io stendo un attimo diciamo du viene rilasciato come dicevo ogni anno con una nuova versione quello che facciamo a livello di community è di fatto andare a diciamo prendere l'ultima versione tendenzialmente le versioni pari questa però è una scelta al proprio livello di associazione italiana e lì andiamo a fare un porting dei moduli della versione precedente oppure andiamo a integrare funzionalità che nel frattempo abbiamo visto essere importanti o necessarie per coprire la base funzionale questa è una domanda forse per Leonardo che Ernesto chiede sui moduli che sono visti nelle slide o sono già presenti nell'installazione che viene fatta direttamente su NetServer 8 sì esattamente è proprio così abbiamo fatto è uno dei valori aggiunti di utilizzare questa istanza qua piuttosto che andare a scaricare le immagini online abbiamo fatto un'immagine ad hoc che è dedicata all'installazione su NetServer 8 che ha già dentro la selezione di moduli con la localizzazione italiana oltre che altra selezione chiaramente che è frutto di esperienza fatta nel corso del tempo perfetto riparisco un punto che avevo detto all'inizio ma forse magari i moduli che voi trovate su NetServer 8 gran parte dei moduli che trovate nel software center sono stati sviluppati fatti e supportati da NetSys il modulo di O2 l'integrazione è stata fatta direttamente da Innoview per cui è un modulo che va nel centro dello schema che ho fatto vedere prima Donardo e quindi un modulo creato da terze parti e supportato direttamente da loro per cui se avete bisogno di consulenza su quella parte lì sia consulenza diciamo sul modulo loro si occuperanno di supportarlo e di mantenerlo non l'hanno tradotto in inglese eccetera 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 se avete bisogno chiaramente e anche dell'uso di O2 loro sono le persone giuste per poterlo chiedere NetSys non è esperta in O2 per cui i partner sicuramente di riferimento sono loro Alfonso Di Benedetto chiede si tratta comunque della versione community quella che è stata messa lì sopra sì esattamente quella è la versione community ovviamente noi lavoriamo molto anche con la versione enterprise quindi però chiaramente abbiamo distribuito la versione community e tutti i moduli diciamo sono quelli della versione community di chiamare c'è un motivo per questa domanda nel senso se posso chiedere se stiamo parlando se c'è qualche esigenza particolare oppure è semplicemente una curiosità sì giusto per capire se chi di voi già utilizza O2 che versione utilizza e se diciamo questa era la domanda un pochino per capire se c'è già qualche utilizzatore Alberto chiede che basi dati viene utilizzata si trova all'interno dello stesso container dell'app questo magari se c'è potrebbe essere anche Davide che probabilmente lo sa c'è Davide Prince qui se già lo sa come è strutturato il container può tranquillamente rispondere so che ci sta seguendo qua per cui se c'è qualche cosa probabilmente lui ci può direttamente rispondere anzi se c'è andiamo lo vado a prendere andiamo Davide se no allora io allora la domanda che ha fatto Alberto è che base dati viene utilizzata si trova all'interno dello stesso container dell'app questa è un pochino la risposta Davide se vuoi puoi rispondere via audio oppure tranquillamente anche ciao a tutti ciao in occasione della review del modulo che ha realizzato il new view rispondo anche se forse qui più bravo a rispondere sarebbe Alessandro però se mi posso permettere che è uno sviluppatore di no view stesso il database è dentro il modulo odoo quindi il modulo odoo che è scaricato dal software center è stato realizzato completamente da no view ed integra un container di postgres su cui vengono messi tutti i dati correggetemi se sbaglio no no è corretto io diciamo non è non è qualcosa di definitivo chiaramente nel senso che potrebbe tranquillamente essere messo all'esterno per gestirlo separatamente però in questa prima versione è sicuramente tutto integrato lì dentro un unico container io se posso dire la mia avete fatto benissimo così ok perfetto allora Alfonso grazie Davide intanto Alfonso chiede dice che faceva quella domanda della community per capire se si era legato un adulto enterprise per le licenze oppure non poteva muoversi liberamente a me ok vai vai beh no non c'è nessun legame con l'enterprise per le licenze chiaramente chi vuole può passare l'enterprise perché la community è possibile passare ormai io corregimi se sbaglio insomma se in maniera semplice è possibile ovviamente si entra poi nel circuito enterprise per cui appunto ci sono le licenze ci sono altri discorsi qua diciamo l'integrazione è stata fatta sul mondo community proprio per avere più libertà e proprio per l'idea di integrazione di due community quindi l'idea è proprio nata da questo allora rest dice installato una volta per comprare la parte di elbersk con l'attuale vtiger community non ho ben capito la penso che quando l'ha usato per come l'ha usato odù ok come netesis avete linee guida per sviluppatore di terze parti chiede Karim questa è una domanda per Davide se ci sei Davide tranquillamente rispondere se sei allora nella community di netserver abbiamo lanciato una bozza di quello che è un percorso di certificazione per affinché un modulo venga pubblicato nel repository netforge che è il deposito di moduli che vengono realizzati dalla community ed è anche appunto repository dove è stato pubblicato il modulo odù quindi lì ci sono le ci sono delle linee guida da seguire si può ottenere la certificazione di livello community quindi altri membri della community che provano il vostro modulo e lo dicono insomma che va oppure potete chiedere la certificazione anethesis come ha fatto in Novio noi quel punto adesso stiamo lavorando al software center per migliorarlo integrarlo con questa con questo percorso di certificazione in modo che le app che sono elencate nel software center si capisca che chi le ha viste chi le ha certificate da dove vengono e quant'altro si possa quindi distinguere la provenienza di un'applicazione che tipo di controllo c'è stato fatto sopra non so se ho risposto alla domanda di Karim perfetto perfetto intanto Alessandro ha anche risposto qua sotto dicendo che ci sono due servizi uno post che contiene un db prepopolato potete utilizzare subito e poi un secondo o due app che contiene tutti i file store immagini documenti entrambi i servizi sono compatibili col backup dei store di server 8 quindi Ale scusa se posso aggiungere una cosa alla domanda di Karim oltre tutta questa cosa ovviamente c'è la documentazione per gli sviluppatori disponibile certo quindi si può seguire quella e in più ci sono anche se volete tantissimi altri esempi di app che ci sono state messe in software center di server quindi tranquillamente potete prendere spunto anche da quelle che sono già state create se volete vedere un po' come sono state fatte tra l'altro ha fatto tempo fa un webinar che trovate sempre la nostra community Davide su portare un container prendere un container e trasformare in un'applicazione per una server 8 per cui potete seguire anche quello se avete già un container di partenza ok Tommaso che ha messo il link alla documentazione del sviluppatore per cui potete trovarla qua se ci sono altre domande nel frattempo su cose che ci hanno raccontato sia Mario che Leonardo scrivetele pure qui sulla destra così vediamo anche la la cosa e spero che sia stato chiaro anche tutta la parte che Leonardo ha spiegato all'inizio effettivamente diciamo U2 si può installare si può utilizzare in tanti modi diversi si possono si può usare modalità SAS si può installare in casa si può mettere su in tanti modi diversi diciamo la parte quello che abbiamo cercato di fare con il server 8 è semplificare tutta la parte non c'è bisogno di un sviluppatore che faccia tutto questo che crei tutto l'ecosistema ma l'ecosistema già c'è si può installare il server vi dà la possibilità di avere già il DNS pronto avete già tutta una serie di backup pronto tutta una serie di cose che vi permettono soprattutto anche se volete provarlo ad esempio testarlo metterlo su in tempo zero riuscite in verità a già provarlo e vederlo per poterlo utilizzare sempre per i vostri i vostri clienti e adesso chiede il modulo di fatturazione prevede l'utilizzo di qualsiasi provider STI allora i moduli base di localizzazione che abbiamo messo su arrivano fino a quello che è l'SDI Coop e quindi si fermano lì una nostra soluzione che è quella che ho citato prima utilizza un nostro servizio quindi qualcosa che abbiamo messo in piedi noi dove noi facciamo da hub però volendo si può poi installare o installare altri moduli e andare a rivolgersi ad altri gestori quindi anche se non so può essere una ruba o altri gestori in generale la soluzione quindi parte da una base che sono quelli dei moduli di localizzazione e noi su questo come NoView possiamo agganciare un servizio di cui noi poi facciamo la parte un po' più professionale quindi andiamo a proporre un servizio di scambio con il sistema di interscambio ok chiarissimo questa parte in questa parte qua ultimissime domande per Mario o per Leonardo se ci sono per chiedere il supporto alla configurazione di Odoo c'è un canale diretto Leonardo con voi c'è un modo di sì potete so se possiamo dare i nostri contatti in qualche forma diciamo era l'ultima slide proprio qua ricondividi pure la slide tra l'altro tra l'altro se installate cioè tra le prerogative di poter mettere un'app su Software Center c'è anche il fatto di c'è tutta la descrizione dell'app c'è degli screenshot e ci sono tutti i dati sull'azienda da contattare se avete bisogno di supporto per cui per cui o se c'è un'azienda che supporta appunto l'applicazione trovate lì tutte le informazioni per poterla contattare tu se vuoi condividi pure le vostre idee i vostri contatti così se c'è bisogno hanno sicuramente un canale diretto sì adesso dicevo ok grazie chiedevo nel caso un cliente potesse parlare con soluzione ma mantenere il proprio provider bisogna vedere qual è il provider tendenzialmente andiamo più su una soluzione integrata in modo da poterla controllare direttamente ok e altre cose altre domande altrimenti andiamo sul concludiamo questo questo webinar di oggi dato che comunque abbiamo detto tante cose interessanti abbiamo visto tante cose ringrazio ovviamente le persone che hanno partecipato che sono rimaste qua che sono rimaste qua con noi nel webinar webinar venerdì di netesis come sempre alle tre e mezza troverete per chi magari si è perso un pezzo per chi lo vuole rivedere dalla registrazione lunedì ve la manderemo ultima domanda di Alfonso mi blocco un attimo nello specifico di Odoo in una singola registrazione nel server è possibile installare più app contemporaneamente questo forse lo sa Davide perché non so se in questo caso è supportata la parte di poter gestire Odoo sullo stesso nodo Davide ce lo può dire non so se questa parte c'è oppure non c'è scusa puoi ripetere se è già stato preventivato se già c'è oppure non c'è la possibilità di installare Odoo contemporaneamente sullo stesso nodo resumo sicuramente puoi installare Odoo su nodi diversi non so se è possibile installare l'app contemporaneamente questa sarebbe una domanda da rivolgere ad Alessandro di NoView però mi sembra che sia possibile perché è un'applicazione web quindi non dovrebbero esserci limitazioni in tal senso però Alessandro se ci puoi confermare ok ultima cosa che gli arness tanto che Alessandro magari se ci legge si risponde ultima cosa gli aggiornamenti del DB e per i comuni eccetera che di solito nei gestionali previsto periodicamente in Odoo come viene fatto questa domanda più per Mario presumo sì non so bene cosa intendi per aggiornamenti del DB per i comuni inteso per i CAP o per cose di questo tipo cioè allora noi quello che facciamo è rilasciare sulle sulle repository di NetServe gli aggiornamenti quindi anche gli aggiornamenti normativi quindi i moduli sono sempre periodicamente fissati o allo stato dell'arte per quanto riguarda la gestione invece spostare la gestione dei CAP eccetera quella c'è un servizio adesso chiede CAP codici tributi normative eccetera sì sì questo c'è diciamo c'è un in realtà un'app non è anche italiana è un'app generale che si chiama Geoname da cui andiamo a scaricare i vari elementi quindi i CAP i codici doganali eccetera per quanto riguarda tributi normative fa parte del lavoro che facciamo a livello di associazione o a livello proprio noi di azienda andare a vedere che il software copra quelle che sono le esigenze classiche di un software che deve seguire questa parte più contabile ok intanto Alessandro ha risposto dicendo che secondo lui è possibile il requirement sarebbe avere due distinti FQDN per poter accedere alle due applicazioni di Odoo ok direi che siamo arrivati non so se abbiamo l'ultimo secondo per poter fare l'ultima domanda altrimenti diciamo che abbiamo visto un po' tutto tutto oggi allora io ringrazio Leonardo salutiamo anche Enrico che ci ha supportato i vari uomini e donne dietro le quinte quindi Alessandro si è fatto un pochino vedere grazie Alessandro e poi Enrico che ha lavorato il modo che hanno reso possibile tutto ci ha aiutato in questa presentazione ecco per cui ringrazio anche Mario e ringrazio anche Davide che è intervenuto da fuori per darci supporto tecnico per cui due cose se volete sviluppare applicazioni per NetServer 8 tranquillamente guardate un canale nostro comitio eventuali comitio NetServer eventuali cose che vengono sviluppate chiedete pure anche noi in Etesys la possibilità di poterlo fare vi aiuteremo in questa cosa se avete bisogno di Odu l'assistenza di Odu capire come poterlo mettere e se lo mettete a chi rivolge vi potete tranquillamente a InnoView io vi ringrazio e vi auguro tutti un buon weekend grazie Mario ciao Leonardo ciao a tutti ci vediamo al prossimo appuntamento ciao a tutti ciao grazie ciao ciao